tony vado a bocci aspetta bimba e ciao lui oh ciao tu ma perchè si fai ma 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 che poteva fare con un vero per farmi tony tony che l'ha che la giacca e la sigaretta il petto è giusto guarda babbi schifezza ma serio tony vuoi dire il risultato del napoli anzi tu l'hai detto ieri nel pub il napoli vinceva 3 e 2 sicuro che il napoli vince 3 e 2 contro la ferentina sicuro il napoli con la ferentina fa 1 x fa 2 e 1 e fa l'ultima 3 e 2 alla fine vince 3 e 2 3 e 2 e un saluto a Fortuna di Babbiere 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 un saluto vai Fortuna di Babbiere un saluto a Fortuna di Babbiere Fortuna di Babbiere un saluto a Fortuna di una roba bella ma tu non ti lo vuoi tanti baci Fortuna di Babbiere un saluto a Fortuna di Babbiere e per cosa vuoi poi a Fortuna di Babbiere mi ha saputo fare anche il cazzo mi ha deciso però mi ha deciso di Babbiere un saluto a Fortuna di Babbiere un saluto a Fortuna di Babbiere